Forse vi metterete a ridere, però c'è qualcosa di poetico in questo posto. A pochi passi da Bardonecchia c'è un posto veramente incredibile e oggi vi ci voglio portare. Venite con me! Grazie per la visione! Ci troviamo al Lago Verde e come vi ho anticipato prima e veramente a due passi da Bardonecchia si trova appena oltre il confine francese, quindi qua siamo in Francia, sotto il comune di Nevache. Oggi la giornata è un po' nuvolosa e ne abbiamo approfittato per i colori che si creano quando non c'è quel contrasto forte che caratterizza le giornate di sole. Devo dire che in questo periodo dell'anno con questi colori del lago, ovvero il verde, e i colori autunnali delle piante è veramente qualcosa di incredibile. L'atmosfera che si respira qui intorno e non lo so, forse vi metterete a ridere, però c'è qualcosa di poetico in questo posto. L'atmosfera Come vedete il lago è veramente verde perché sul fondo si crea quella patina di vegetazione che rende il tutto di questo colore. Ci sono anche delle piante che sono cadute, difatti sono completamente immerse nell'acqua. Qui è veramente veramente bello, per fortuna abbiamo scelto la giornata giusta perché è vero che non c'è il sole, però siamo gli unici. Siamo gli unici, qua c'è un silenzio incredibile. E' incredibile. Sta incominciando a fare buio, quindi mi sembra il caso di iniziare a tornare. Il nome è proprio legato al fenomeno naturale di queste alghe che ricoprono il fondale del lago. Tutti gli alberi che avete visto qua intorno e che adesso ci circondano sono prevalentemente larici e pini. Non ci tocca che purtroppo tornare indietro alla macchina e poi a caso. Ciao! E' tramontato il sole e come vedete fuori è tutto buio. Noi siamo tornati alla macchina e adesso non ci resta che tornare a casa. Spero che il lago verde e il video vi siano piaciuti e per oggi è tutto, ciao! Ciao!